Grazie a tutti amici di Eximardora.com per ritrovato ad un nuovo video unboxing. Questa giorno rima di analizzare il TTS Force Volos, un mouse da gaming di tipo laser, specificatamente studiato per giochi quali MMO, RTS e così via, dove è necessaria una stragante maggioranza di tasti per eseguire macro o combo tasti. La confezione del Volos, come sempre, presenta tutte le informazioni necessarie, sia nella parte anteriore sia nella parte posteriore e inoltre avremo la possibilità, tramite una comoda apertura, di visualizzare il mouse all'interno della confezione. Procediamo dunque all'unboxing del prodotto. Estraiamo il contenuto del mouse ed il relativo bundle che si compone dunque di un pratico sacchetto in tessuto, con sempre il logo della TTS Force, manualistica varia che vedremo nel dettaglio sul nostro sito, nel corso della recensione scritta, ed il mouse. Estraiamo un attimo da questo blister e andiamo ad analizzarlo. Come possiamo vedere il Volos ha una forma molto bombata che ci permetterà quindi una presa completamente palma. Nella parte superiore è dotato di una superficie soft touch che ci permetterà un maggiore grip su di esso. Nella parte superiore è presente una comoda rotella, uno scroll, di tipo cliccabile. Al di sotto sono presenti due pulsanti per lo switch dei DPI. Inoltre questo piccolo cerchio, la rotella ed il logo del TTS Force si illumineranno del colore che preferiamo, scegliendolo tra 16,8 milioni di colori che avremo possibilità di impostare tramite il software di gestione. Nella parte destra troviamo sempre una finitura soft touch e gommata ed altri tre pulsanti che potremo configurare secondo le nostre esigenze. Nella parte destra invece troviamo nella parte retrata due pulsanti. Nella parte quasi superiore è un pulsante per lo switch dei profili che potremo creare e quattro comodi pulsanti un po' a modi X-Box, blu, verde, rosso e giallo, che sempre avremo la possibilità di personalizzare o assegnare varie funzionalità. Inoltre nella parte inferiore è presente il sensore Avagono 1800, due mouse fit di relative e generose dimensioni, un pratico fermo in plastica, lock-unlock per sbloccare questo pratico apertura che ci permetterà di personalizzare il peso complessivo del mouse in quanto il volos è dotato di un sistema di tuning dei pesetti. Sono presenti all'interno 5 pesetti da 4,5 grammi. Chiudiamo un'altra volta. Inoltre il cavo è rivestito in treccia di tessuto ed il connettore è USB placato in oro. Al di sotto troviamo una piccola incisione del brand Thermaltech. Per ulteriori informazioni e per ulteriori immagini vi rimandiamo alla nostra recensione scritta sul nostro sito www.ximarduro.com Un saluto a tutti lo staff.